E' stata presentata nella Sala degli Specchi del Palazzo della provincia di Cosenza la carta sismo-tettonica e della franossità della Valle del Fiume Crati. Un lavoro minuzioso e impegnativo voluto dall'allora presidente dell'ente Mario Oliverio che mette al centro dell'attenzione di tutti i cittadini ma soprattutto dei sindaci una problematica estremamente importante e drammaticamente attuale. Noi abbiamo prestato grande attenzione a questa problematica, quella dei rischi della messa in sicurezza del territorio e in un momento nel quale era meno drammatico all'attenzione dell'opinione pubblica il problema dei rischi come è oggi perché a seguito del terremoto, delle frane degli stessi idrogeologici che sono intervenuti oggi c'è maggiore attenzione. Io credo che invece bisogna recuperarla un'attenzione e bisogna recuperarla in modo permanente perché il nostro paese e nel nostro paese la nostra regione è una realtà esposta ad alto rischio. Abbiamo convocato i sindaci perché riteniamo che bisogna conoscere i rischi della nostra terra e conoscere per prevenire. È una cosa importante, uno studio fatto da ottimi professionisti che oggi viene divulgato. Il compito dell'istituzione è quello di avvalersi di queste professionalità per far crescere questo territorio che ha bisogno soprattutto non solo di conoscenze ma di professionalità che esplicitano la loro attività per lo sviluppo di questo territorio. In questa carta sono riportati i comuni maggiormente a rischio e quei comuni in particolare devono essere i primi a dotarsi di un piano d'emergenza comunale. Purtroppo in Calabria abbiamo poco più della metà dei comuni che hanno un piano d'emergenza comunale cioè in pratica il piano d'emergenza è un piano che consente di capire chi fa cosa come quando in caso di evento tipo sismico e quindi è fondamentale perché la gestione corretta dell'emergenza consente di limitare il numero di vittime e purtroppo in Calabria siamo davvero all'anno zero e qua è anche un'opera di sensibilizzazione verso i sindaci che producano in tempi rapidi supportati dalla protezione civile regionale i piani di emergenza comunale. I lavori sono stati conclusi dal governatore della Calabria che ha ricordato come all'interno del patto per la Calabria sottoscritto con il governo ben il 40% delle risorse sia destinato alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico. Noi abbiamo come regione definito alcuni strumenti che destinano risorse sia al rischio sismico che al rischio idrogeologico. Abbiamo costituito una unità di crisi diretta dal professor Russo assessore della mia giunta che coordina questo gruppo di lavoro nel quale fanno parte i rappresentanti delle università, delle professioni, del CNR, delle imprese per definire una strategia di mitigazione dei rischi e di contrasto appunto. Presenteremo entro la fine dell'anno un programma di interventi con risorse che saranno destinate ad obiettivi precisi per la messa in sicurezza degli edifici e per la sistemazione idrogeologica. A conclusione dei lavori a tutti i sindaci della provincia è stata consegnata una copia della carta sismotettonica. Rientra nel progetto anche la creazione di una app con i piani di emergenza per individuare le aree più sicure in caso di terremoto.